e bella a tutti ragazzi e oggi siamo in un nuovissimo video con Umberto Maurelio e Antonio però oggi è arrivato il gran momento di Antonio di Lanto Nello Reo aiuto e volevo essere ancora io il Reo guardatevi il video precedente ve lo dico si chiama Canale Susanna Chiarello e il titolo del video si chiama Sono io il Reo cioè Fortnite sono io il Reo ok mio sovrano ok mio sovrano ok mio sovrano ok ecco mio sovrano ok ok mio sovrano ho paura di quella di Settigol per favore mio sovrano potrebbe potrebbe mettere l'ascia ti prego mio sovrano ti prego mio sovrano la supplico farò anche l'amore con lei se la mette ok 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 ho paura ho paura aspetta faccio questo guarda ok 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 aiuto ok 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 non sto fermo ok guarda sto fermo tutto bene sto dietro di lei aspetta non sto non sto non sto non sto non sto ah farò quello che vuole lei ok mio sovrano ok ok vai ok basta aspetta dove si riesce vai a 999 di legno ok aspetta che faccio questo se non mi ricordi entra un secondo si è mio sovrano ok sto venendo sto venendo allora 999 5 milioni mio sovrano dov'è? hai un minuto 30 secondi 29 secondi enti fino a 40 tieni mia sovrano ok questa legna me la posso prendere? ho metto per me ok ok no no non me la prendo ok guarda visto che lei è molto gentile gli do anche questo mettiti qua mettiti qua si aspetta mettiti qua dentro ecco fatto mettiti qua vai guarda mi ha detto un altro ah ciao che bello te lo ho preso ok grazie non prende te non prende te no almeno mi posso prendere i palloncini almeno mi prendo solo un palloncino così io ok ok si te lo posso scoppiare una no ok ecco fatto almeno così per farmi la legrare quante vita c'hai? quanta vita c'hai? eh c'ho 12 di scudo e 100 di vita ok vai di la ok ah no io avevo detto vai di la e stavo andando per di la aiuto no non fare quella di sala vieni qua si sto venendo da me mi giuro un po' qua interessante eh qua che ti do tre piccolate io qua perché trovo un punto ok ok ti faccio aspettare un po' di mio dettaglio no aspetta piccolate dai ok cazzo no non lo so neanche io dove sei tu ah eccoti aspetta no non mi fai entrare senti signore stacco un attimo qua ecco sono qua ecco signore aia poi si perché è entrante un altro adesso poi devo fare ah faccio vai ok almeno mi porti paloncini eh dai dai ok ok dove che bello ah ok la smetto la smetto grazie grazie che mi ha ucciso io posso scappare libertà no no non vale ok non vale non vale ok io mi fido di lei però io vado sulla ps4 e ti blocco se mi uccidi perché io sono perché io sono uno youtuber e ti ciò come amico ti chiami Antonio che devo fare mio sovrano dove sei? ok sono là dietro di lei dove dove ma dove sei? quella ti ho perso anch'io ah ecco ti eh 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 cercare eh un che segreto ok vai ok 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 aspetta un attimo ah qua venga salta ok venga ah di qua ok 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 vediamo dove hmm mmm se l'ho trovato si l'ho trovato Spaccandolo Non si apre Sì vai Posso correre o devo camminare così? Ok Ok ho già paura della quinta fase Ok Io ballo questo Ok ok Ah ok Bello Sì Dov'è? Ah ok qua Ok Mi fa verano Sì Ok E per fare cosa? Ok Perché la vedo io il mio soverano Ok Entro in cerchio di fuoco Invece che paura mi sto divertendo un botto Che bello Mi devi dare ancora due cose da fare Mi devi dare ancora due cose da fare Ho paura Ho paura Ho detto che non me lo prendo Ho detto che non me lo prendo Ma che cosa? Ok Ok Grazie Grazie mio soverano Ci vediamo dopo Ciao Ciao Nooo Nooo No mio sovrano. Ciao. Ciao. Ah ok. Grazie mio sovrano. Salve. Salve. Come va la vita? No. No. Tu hai detto che ho... Oh my god. No. No. No, almeno sono a bacino. No. 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 Sì, posso almeno uscire? Ok, per ora Ok, sì Ma non avevo visto niente No, non l'avevo vista proprio, giuro Vai, su, continua Io guardo il cielo quanto è bello Sì, guarda il cielo per spiare, capito? No, dai, vai Io vado giù Aspetta È il mio sovrano Mi sono... Mi sono liberato Ok, sì, ho visto Il mio sovrano Posso partire? Ok, e che cosa mi serve? No, non sto guardando No, era già aperta Giuro che era già aperta Era già aperta, giuro Ok E sì, però Quando apro la cesta Che dovrò fare? Dai, quando posso incominciare? Dai, dai, dai Che non vedo l'ora Perfetto! Dai, che se no il video diventa troppo lungo Dai, su, no Non vedo l'ora Non vedo l'ora Non vedo l'ora Ok 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 Ok, che devo facci? Ah Devo farci? Ok Ho già paura di quello che accadrà Sì Non si capisce niente Forse No, ti ho visto No, non c'è No, non Non sposto Cioè, no Io ho visto la trappola No, io ho visto la trappola No, non c'è No, non c'è Eh Perché c'era una trappola? Eh sì però non vale, tu hai messo la trappola là e l'arma là Ok Ma all'uscita c'è una porta? Qualcosa? Ok Dove? Ah dove? Aspetta, voglio vedere prima di qua ok Non c'è niente Dai No dai ok Basta però Dove? Oh Sì Cosa? È a Pinacoli Visto che io sono, tu mi hai fatto del male Ehi Ok Allora facciamo una cosa, io interrompo il video poi lo continuo sempre Allora quindi iscrivetevi al canale, lasciate un pollicione in suo se no Non sopporto il video, non sopporto ad E ciao 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 Ciao